A Sala Consiline i conti non tornano e il prefetto di Salerno minaccia lo scioglimento dell'assise cittadina. Per evitare il decadimento anticipato, il governo di Gaetano Ferrari può giocarsi soltanto una carta, approvare intorno 20 giorni il rendiconto di gestione, così come prescritto dall'articolo 227 del decreto legislativo del 18 agosto del 2000. La nota, sottoscritta dal prefetto Gerarda Maria Pantalone, è stata protocollata a Palazzo di Città il 9 maggio e così come prevede la legge non ammette repliche, in caso di inadempienza evidenzia il rappresentante di governo, si provvederà in via surrogatoria a mezzo di commissario ad acta e si darà avvio alla procedura di scioglimento del Consiglio. Lo strumento finanziario doveva essere portato in discussione in Consiglio e dunque approvato entro il 30 aprile, tanto che da parte della Prefettura c'era già stato un sollecito che però, data la nuova comunicazione, non è servito a niente. Ora l'out-out. Siamo di fronte, ha commentato il capogruppo di minorenza, l'avvocato Angelo Paladino, ad un ennesimo esempio di cattiva amministrazione. La mancata approvazione da parte del governo Ferrari dimostra che c'è una difficoltà a rendicontare e questo ci preoccupa. Speriamo che a pagarne le conseguenze, ha concluso Paladino, non siano ancora una volta i cittadini di Sala Consilina.